Peugeot è il primo marchio estero in Italia nei veicoli commerciali, grazie a modelli in grado di soddisfare le esigenze di una vasta clientela di professionisti del trasporto. La sua gamma prevede anche versioni 4x4 di partner, expert e boxer, realizzate in collaborazione con lo specialista Dangelle, il primo costruttore francese di 4x4 con una produzione di 3.000 veicoli l'anno. Dalle fabbriche Peugeot i furgoni destinati alla trasformazione raggiungono lo stabilimento di Dangelle in Alsazia dove avviene il montaggio della meccanica 4x4. Le operazioni effettuate prevedono tra l'altro l'aumento dell'altezza da terra, il rinforzo delle sospensioni, il montaggio dell'albero di trasmissione posteriore, del giunto viscoso, del differenziale a slittamento limitato al retrotreno, l'aggiunta di protezioni al sottoscocca, la sostituzione delle gomme di serie con altre di dimensioni maggiori. Alla fine dei lavori ogni veicolo è sottoposto a un vero e proprio controllo di qualità. La trasformazione effettuata lascia inalterato il volume di carico del veicolo. Il giunto viscoso montato da Dangelle sui Peugeot 4x4 trasferisce automaticamente e progressivamente alla retrotreno la percentuale di coppia motrice persa dall'avantreno. Se poi l'aderenza di una ruota posteriore diminuisce, interviene il differenziale a slittamento limitato per privilegiare l'altra con maggior presa. Nel caso di perdita totale dell'aderenza della ruota posteriore, il differenziale può essere bloccato semplicemente ruotando il selettore montato sulla plancia, che consente anche il passaggio manuale e a qualsiasi velocità dalla situazione 4x2 a quella 4x4. Insomma, i commerciali 4x4 di Peugeot offrono ai professionisti del trasporto e alle comunità che operano in zone difficili una motricità a tutta prova, su tutti i terreni e sempre con il comfort tipico del marchio Peugeot.